Benvenuti a tutti, oggi siamo a Milano al Forum delle Eccellenze organizzato da Performance Strategies e siamo con un personaggio d'eccellenza. Siamo con il massimo esperto mondiale di tecniche di apprendimento rapido, dell'innovazione e della creatività per la mente umana. Siamo con il creatore e l'inventore delle mappe mentali e un autore best seller, siamo con Tony Buzan. Quindi benvenuto, benvenuto in Italia, benvenuto. Buongiorno. Quando ho avuto l'intuizione delle mappe mentali e se può spiegare in breve anche per gli amici che non lo conoscono cosa sono le mappe mentali, perché a volte vengono confuse con i diagrammi di flusso, con le mappe concettuali, ma c'è una differenza fondamentale. quando hai avuto l'intuizione delle mappe mentali e se puoi spiegare in qualche parola cosa sono le mappe mentali e quali sono le differenze tra le mappe mentali e i diagrammi di flusso, perché in Italia a volte c'è un po' confusione. Ah, ovunque, ovunque! Quando ho avuto la prima, ho avuto, ho capito che i nostri mapponi, erano solo una colora, una colora che era monotone, monotone. La monotone è vera, quindi mi non potesse, non poter fare, non poter pensare con i nostri mapponi. of what was necessary so I took the key words and then I linked them together associated them and I thought that's better but I don't have any pictures or any images and a picture is worth a thousand words so I began to learn to do some drawing put a little diagram put a little symbol so I had images I had key words I had ideas and I made the connections like branches in a tree and then I put colors because colors stimulated the brain and there was a mind map of my thinking it was like a map of a city I am in Milano I need a map to go to to the basilica to go to the cathedral to go to the restaurant to go to the theatre to go to the sports and I want to know the roads to get there the mind map helped me navigate my thinking and suddenly I could get there and I knew how to get there if I didn't need to go there I still knew so it was all clear everything clear and that was how I invented the mind map and every child can do that every child naturally is a genius and it's just a matter of exploring it how does it work and it's a beautiful journey and every child if I speak to a billion children every one of you can mind map every one of you can think every one of you will remember beautifully you are brilliant and it's just a matter of learning the thinking tool it took me it took me thirty years to work it out you we can now let people know in ten minutes how to use the brain i then you 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 you